l'unico posto in Ticino dove ufficialmente può lasciare i cani liberi è arrivato il rumeno te c'era tranquillità fino che arrivavi te ciao Edy ciao amore ciao prima erano tutti tranquilli sento un ringhiare strano mi sembra di conoscere questa hai sentito che prima erano tutti tranquilli e poi ho visto il bisotto che arrivava non ti neanche visto grazie